Bella ragazzi, prima del video mi raccomando non dimenticate di fare un salto sul primo link in descrizione Instant Gaming ragazzi, come potete vedere ci sono anche un sacco di ricariche per l'Xbox a prezzi veramente ridicoli Primo link in descrizione, Instant Gaming Weee, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e oggi ragazzi abbiamo un sacco di argomenti davvero interessanti di cui parlare insieme Nel video di oggi infatti ragazzi parleremo soprattutto, se partissero gli argomenti sarebbero sempre meravigliosi Ma come al solito non partono, parleremo ragazzi della skin speciale che prestissimo sarà disponibile per alcuni di voi Per alcuni utenti ragazzi andremo ovviamente a vederla insieme Non mancheremo anche di parlare dell'update 7.20, di alcune cose che forse non avete notato Ovviamente non parlo del pupazzo di neve e parleremo anche di un mistero, se avremo tempo Che è un pochettino andato su quello che sta succedendo per il nuovo skirmish, per il secret skirmish Comunque ragazzi vi ricordo a tutti di lasciare un bel pollicione in su Se ancora non lo avete fatto mi raccomando iscrivetevi tantissimi al canale E attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento con i miei video Ma prima ragazzi, come sempre ragazzi la domanda, ve la devo fare La domanda mi raccomando i vostri commenti, le vostre risposte qui sotto Io le leggo ragazzi magari con un giorno di ritardo ma le leggo E la domanda è semplicissima, qual è la tua skin preferita tra le tre Tutte e tre sono le skin speciali della season 4, 5 e 6 La mia ragazzi, la mia è lo spacca tutto, non c'è niente da fare Veramente molto molto bella Ditemi invece qual è la vostra qua sotto nei commenti Ma quindi, cencio alle bande e bando alle ciance Andiamo subito ragazzi a vedere il nuovo update 7.20 Non c'è neanche bisogno di parlare del pupazzo di neve sub Dall'ottanta tanta roba per questo nuovo cespuglio Questo travestimento che ci dà anche lo shield comunque E che ci permette appunto di rimanere abbastanza nell'ombra E di muoverci nel momento esatto in cui vogliamo killare un nostro nemico Ma ragazzi, parliamo invece di quello che è successo seriamente con questa patch Hanno tolto il rampino, hanno tolto il megafortatile E hanno anche tolto purtroppo il quad launcher ragazzi Tre oggetti a parer mio interessanti A parte il megafortatile che non mi piaceva ma il rampino E quad launcher, mi dispiace che non ci sono più Speriamo ovviamente di ritrovarli in futuro Ma quello che mi premeva dirvi era la modifica che hanno fatto agli shield ragazzi Allora, per la pozione scudo grande La possibilità di generazione nel bottino a terra Quindi trovandola per terra È stata aumentata dal 13.20% al 16.53% Quindi più facile trovare lo shieldone E addirittura, scusatemi, l'hanno ridotta dal 16.53 al 13.20 Hanno anche ridotto la possibilità di trovarla nei chest dal 14.26 al 9.50 Hanno invece aumentato la possibilità di trovare gli shieldini E anche di brutto ragazzi Perché nel bottino a terra troveremo Abbiamo una possibilità del 16.53% rispetto al 13.22 E nel forziere addirittura del 15% rispetto al 9.51% Quindi ragazzi, tanta roba Si può molto più facilmente trovare adesso gli shieldini Qualche altra modifica anche ai deltaplani Quindi l'oggetto deltaplani ridotti drasticamente nei forzieri Dal 11.89% al 4.43% E anche modifiche sugli X4 Sugli aeroplani ragazzi L'hanno ridotta Vi ricordate? Una volta era il 100% la possibilità di trovarli nei luoghi Poi l'hanno ridotta all'80% con la patch 7.2 La prima delle tre E adesso l'hanno ulteriormente ridotta al 50% ragazzi Diventa davvero impossibile trovare gli X4 in tutte le partite ragazzi Mi piace però come idea Perché davano veramente un sacco di fastidio Hanno modificato gli eventi Hanno messo la coppa pop up esploratore E hanno anche migliorato per quello che riguarda le prestazioni Un bug che causava un calo di fps Quindi ad resto ragazzi Dovreste andare molto molto più lisci Poi ci sono altre modifiche su save the world E nella modalità creativa Ma le lasciamo leggere a voi Ovviamente sul sito di Epic Games Ma parliamo invece ragazzi Della nuova skin L'Honor Guard Ragazzi Tanta tanta roba E da poche ore che si sa Questa notizia in maniera ufficiale Skin che viene associata All'acquisto del nuovo telefono Honor 20 ragazzi Tanta tanta roba Per questo telefono Ma anche tanta tanta roba Per questa skin ragazzi Diciamo che È un po' una versione di El Motociclista Se proprio dovessimo dirla tutti Tutta Blu Nel senso Cioè la skin Galaxy Era una skin a sé Ci stava di brutto Ci sta tuttora di brutto La skin Honor Guard Carina Sicuramente sarà una skin Che resterà rara Perché non è che tutti comprano L'Honor 20 Però potevano fare di meglio Tra l'altro ragazzi Posso anche già dirvi Che l'Honor 20 Avrà un prezzo Di 649 euro Quindi comunque Una spesa abbastanza interessante Però per un telefono Che sicuramente Meriterà O eh Se qualcuno di voi Prenderà l'Honor 20 Porca vacca Me lo dica Che voglio vedere La skin In lobby Ma andiamo avanti ragazzi E parliamo Invece Di quello che sta succedendo Sotto al castello Lo sapete ragazzi Mi piace tenervi aggiornati Con tutte le modifiche Che giorno per giorno Avvengono nella mappa Molte delle quali Passano anche In maniera Inosservata Ma finalmente ragazzi Cominciamo ad avere Una visuale Molto più completa Di quello che c'è Sotto Quindi il grande Cubo di ghiaccio Che rimarrà Prima che tutto Il ghiaccio Intorno al castello Si sciolga Nasconde Il prigioniero ragazzi Se guardate Molto attentamente In alto a destra Nell'angolo Nell'angolo più a destra Del cubo di ghiaccio Vedete quel coso nero Che sembra un disco da hockey Ecco ragazzi Quella in realtà È la parte alta Delle catene Che tengono blindato Il prigioniero ragazzi Catene che vi faccio vedere In questa immagine Che fa parte Degli oggetti Presenti Nei file O meglio Delle texture Presenti Nei file di gioco Queste due catene Che qua sembrano Piccoline Ma in realtà Vi posso garantire Sono davvero Enormi Vanno a intrappolare Il prigioniero Ieri abbiamo visto Anche le texture Di questo prigioniero Che io ripeto Penso sia Il re del fuoco Anche perché La seconda texture Nel video di ieri Mostrava proprio Il logo Il logo del fuoco Quindi ragazzi Staremo ovviamente A vedere Che cosa ci riserverà Il futuro Ma andiamo avanti ragazzi E parliamo un secondo Di quello che vi dicevo Del secret skirmish Che cos'è il secret skirmish Per chi Non lo sa È l'ennesimo torneo A invito Che Happy Games Ha proposto Ai migliori Giocatori Che si sono qualificati Negli eventi Quelli Quotidiani Quelli nella sezione Eventi C'è una cosa Un po' particolare Ragazzi E infatti Si sta Cominciando A sollevare Qualche dubbio Nella community Di fortnite Beh ragazzi Vi faccio vedere Quest'immagine Che vi chiarisce Un po' meglio Quello che vi sto dicendo Questo ragazzi È l'elenco Dei 100 giocatori Che sono stati Ammessi O meglio Invitati Al torneo Beh ragazzi Se ci fate caso Guardate un pochettino La provenienza Dei giocatori Vedete 96 giocatori Su 100 Provengono Dal nord America Solo 4 Non arrivano Dal nord America Uno arriva Dalla Svezia Uno arriva Dalla Norvegia E uno arriva Da un paese Mi sembra Dell'India Una cosa del genere La cosa strana È appunto I 96 giocatori Che sono stati Selezionati Nel territorio Nord americano Diciamo che Come mai Secondo voi Perché Davvero Sono tutti I più bravi Del mondo Sono quelli Nord americani Non metto in dubbio Che ci siano i campioni In quella zona Ma porca miseria Noi abbiamo i nostri campioni Tutto il resto del mondo Ha i propri campioni Non lo so ragazzi Io mi rimetto a voi Con le vostre idee Quello che pensate Secondo me È un pochettino strana Come cosa Beh ragazzi Direi Che anche per oggi Ne abbiamo dette Di tutti i colori Ovviamente vi ricordo Che questo pomeriggio Arriveranno i video Delle guide Per Non questo pomeriggio Domani pomeriggio Arriveranno i video Delle guide Della settimana Numero 8 Io vi ringrazio Tantissimo Per avere guardato Questo video Un bel pollicione In su Noi Ci vediamo presto Ciao 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 Ciao